Ciao amici, oggi vi cucinerò le zucchine in versione light. Prima cosa, laviamo le zucchine e successivamente le tagliamo a fiammiferi larghe 2-3 cm. Ririscaldiamo il forno a 200 gradi. In un capiente recipiente adagiamo l'impanatura di mais tostato e tuffiamoci dentro le zucchine. Facciamo aderire bene l'impanatura alle zucchine, devono essere completamente ricoperte di mais. Ora adagiamo le zucchine in una teglia da forno, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e forniamo. Il sale può essere aggiunto sia prima che dopo. Forniamo e lasciamo cuocere. Ed ecco che dopo mezz'ora le nostre zucchine sono pronte e croccanti. E non mi resta che salutarvi. Alla prossima ricetta!